Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Giuseppe Roccasalvo e vi parlo per conto del portale Vision Forex. Quando le community crescono sono sempre più i cosiddetti furbetti che a nostro nome provano a truffare le persone che ci seguono. Tra l'altro voglio anche interloquire con il mio carissimo amico Francesco Cerullo perché non sapevo 1. che ci fosse un cognome così importante, 2. che ci fosse una ragazza così carina che lavorasse con noi da circa 4 anni. Francesco? Ma tra l'altro Giuseppe qua nello studio non ho mai vista questa persona quindi non sappiamo assolutamente chi sia e quindi fate particolare attenzione a chi si spaccia per noi, soprattutto chi utilizza il nome Vision Forex.info. Ve la mostro subito così la potete anche voi segnalare, viene eliminata, rimossa direttamente da LinkedIn, si chiama appunto Sara Clinton ed è un senior account manager at Vision Forex.info da circa 4 anni. Inoltre se andiamo a guardare la sua biografia personale cosa notiamo? Beh ovviamente non può che offrire possibilità di guadagno facili in pochissimo tempo, addirittura qua si parla del 30-35% al giorno. Attenzione perché sono sempre più i truffaldini che utilizzando nomi di persone seguite, in questo caso anche il nostro, provano a lasciarvi credere ciò che non è, quindi guadagni facili, cifre importanti con pochi soldi e tutto il resto. Tra l'altro capita pure che vengono realizzati degli account YouTube che utilizzano la nostra foto identica e il nostro nome identico, con lo scopo voi direte di far che semplicemente rispondono ai vostri commenti all'interno dei nostri video con questi profili, così che chi ovviamente ci segue da tempo pensa che possiamo essere noi e non siamo noi. Quindi fate attenzione perché propongono Bitcoin, propongono servizi di investimento ultra innovativi, sappiate che noi rispondiamo ai vostri commenti semplicemente rispondendo a ciò che ci chiedete, quindi non vi proponiamo nulla all'interno dei commenti YouTube presenti all'interno del nostro canale. Non so se Francesco vuole aggiungere qualcosa. Assolutamente sì, ci capita spesso di vedere alcuni commenti che riportano ovviamente il nostro nome, ma non siamo noi offrendovi alcuni servizi a pagamento, offrendovi delle rendite incredibili, non siamo noi in quel caso. Vi chiediamo di fare due piccole azioni, il primo ovviamente è andare a cliccare su quello che è il quanto meno profilo di queste persone, di queste fake persone che vanno ovviamente a commentare, eventualmente verificate sempre la fonte dell'appunto dell'annuncio. Noi tutte le comunicazioni le facciamo solo e soltanto sui nostri canali social ufficiali, quindi vengono sempre verificati da me o da Giuseppe. Se volete ovviamente potete inviarci sempre un messaggio, siamo sempre a vostra disposizione per poter avere ulteriori informazioni. Verificate sempre la fonte, la sezione contatti del nostro sito, info, chiocciolavisionforex.info è la mail di riferimento, ma trovate sui social in particolare i riferimenti, sia del sottoscritto Francesco Serullo sia di Giuseppe Roccasalvo. Fate sempre attenzione perché quando la community cresce c'è sempre purtroppo anche questa dinamica di notizie fake che purtroppo vanno delle volte a comunque sia coinvolgere voi utenti che ci seguite. Quindi vi ricordiamo anche questo aspetto che è molto importante. E detto questo ovviamente ringraziamo tutti coloro che hanno guardato tempestivamente questo video, che hanno segnalato tempestivamente questa persona, così da bloccarla all'interno di questo canale che in questo caso è Linkedin, in modo tale che non possa in qualche modo truffare a nostro nome le persone che ci seguono o le persone che arrivano a questo account. Detto questo ovviamente vi ringrazio sia a nome mio che a nome di Francesco Serullo per il costante supporto che ci date sia all'interno dei nostri canali social, sia all'interno della nostra community. Quindi parlo anche di Facebook, del nostro canale Telegram e soprattutto YouTube con il vostro like e i vostri commenti. Detto questo vi ringraziamo ancora una volta e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.